ciao benvenuto ti chiedo cortesemente di tenere sulla mascherina momentaneamente anche in aereo poi la leveremo per lanciarci come ti chiami? Arturo lo so già da dove vieni Arturo dai? abito a Reggio Emilia ma siete qua proprio senti ma è un regalo o l'hai scelto tu? è un regalo per i miei 40 anni ma te l'hanno fatto o hai scelto tu? me l'hanno fatto ma sapevano che volevi farlo ok quindi è un po forzato questo regalo però me l'hanno fatto i miei suoceri quindi ho qualche dubbio lei è la moglie? lei è la moglie? lei è la moglie è anche incinta è anche incinta guarda che è anche incinta la vedo è una femmina o maschio? tanti auguri grazie che bello benissimo senti Arturo quindi sei carico? carichissimo non vedevi l'ora di fare questo lancio Mattre no Mattre non ti ha spiegato niente ho visto che Cobra spiegava in realtà ma tanto lui ti spiegherà anche in aereo un po' di cose senti cosa ti devo dire io? divertiti divertiti sorridi mi raccomando guardami con un gran sorriso perché dobbiamo vederlo il sorriso dai allora ci vediamo tra pochissimo in aereo ciao ciao bravi i tuoi genitori che gli hanno regalato anche mio fratello bene 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 ottimo bravissimo Arturo andiamo andiamo? andiamo? dai vieni mi arrangio io Arturo stai qua con me ti dico io siamo gli ultimi a salire ma è prima di uscire quindi possiamo farla montare ok adesso li faccio salire quando sali te aspetta che fai con la barra lì a non pensare con la terra è un po' di uscire belti è stata Lisa non sei l'assunore aia валogna aia che cosa apprendra aia qua aia sulle Sì, è vero, è vero. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti